L'effetto Mandela ha anche per la biglia blu? Ragazzi e ragazze, questa è decisamente molto interessante e qualcuno potrebbe pensare che il Mar Rosso abbia una forma diversa da come l'ha memorizzata nel 2010. Questa è la foto della NASA della biglia blu con la sigla AS17-148-22-7-27. Ovviamente è apparsa sullo schermo degli iPhone e tutti su questo canale sanno che non si tratta di una foto vera ma di una elaborazione attraverso Photoshop. Basta cercare Photoshop per disegnare Terra e i pianeti Robert Simmo, ad esempio, attraverso l'indice alfabetico. Ma la cosa interessante è questa. Sulla pagina online della NBC News del 7 dicembre 2012 qualcuno sa spiegare perché c'è questa immagine con questa dicitura? Questa immagine del 7 dicembre 1972 mostra la veduta della Terra vista dall'equipaggio dell'Apollo 17, Jen Cernan, Ronald Evans e Harrison Schmidt mentre viaggiano verso la Luna. La vista spazia dalla zona del Mar Mediterraneo fino all'Antartide. Questa è stata la prima volta che la traiettoria dell'Apollo ha permesso di fotografare la calotta polare sud. Ma accidenti! Osservate il Mar Rosso! C'è una massa di terra che lo ostruisce e un mare all'interno dell'Africa! Lo so, lo so, gli scettici diranno che è stato un errore della testata, avranno manomesso la fotografia. Retrocediamo di un anno, 12 aprile 2011, dalla testata The Atlantic. Nella pagina Tecnologia, lo scatto della biglia blu, la prima fotografia completa della Terra. Stessa identica immagine. E nella descrizione dicono esattamente che si trova nell'archivio della NASA con la sigla AS17-148-22-727. Nessuno ha fatto caso a questo particolare del Mar Rosso e decisamente con l'uscita della seconda biglia blu hanno ripulito l'errore. Ma con questo video lo riportiamo alla luce. Che sia un caso che la pagina web della Casa Bianca del presidente Barack Obama del 20 luglio 2015, dove presentano la nuova biglia blu, non si vede alcuna immagine della prima edizione della biglia blu? Mistero della fede? Ma a disposizione abbiamo il prezioso Wayback Machine che ci mostra qualcosa di interessante, non certo quel che riguarda il Mar Rosso, ma le proporzioni dell'America su questo sito. La pagina è stata aggiornata il 21 gennaio 2017 e siccome era l'anno in cui è iniziato a dilagare il risveglio e la consapevolezza che viviamo sulla terra piana, ecco che il 7 giugno 2017 tolgono dal sito tutte le immagini. A chi è ancora scettico, invito a consultare il fornitissimo indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu Oltre a Canal 104 Plus c'è anche il canale YouTube Dino Tinelli. Il libro in bianco e nero il risveglio raccoglie le prime esperienze vissute nella pubblicazione dei video. C'è anche la versione a colori solo nel formato ebook. Attraverso Paypal è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di essere arrivati fino in fondo al video. Grazie a tutti.